Ogni weekend Tu e io contro il mondo Tutti gli eroi di super Come sempre Inguaggia! Faranno gran festa insieme Dopotutto Anche i più instancabili supereroi hanno diritto a divertirsi, no? Non perdere il Superheroes Weekend Sabato e domenica dalle 12 Solo su Super E ora Spongebob Su Super Siete